Oh bello a tutti ragazzi live commentari finalmente ve lo aspettavate siamo qui con giulio allora Adesso faremo un paio di missioni se non abbiamo la sfiga di cadere sotto qualche colpo like e boss Ma vicini Beh Cazzo mamma mia ma sono veramente dei pro questi qui Porca puttana Vedi il problema con questi qui è Ma è chiaro che il colpo è lento e quindi a posto Avevo picciato tondino eh per la cronica Ma perchè in pratica le animazioni sono molto secche diciamo Quindi non puoi interrompere un'animazione col tondo E non si interrompe un'animazione Comunque sono stronzi anche perchè vanno indietro nel momento giusto Cioè si vede che devi comandare il computer Ora in teoria dovrei bloccarla in combo questa roba ma non lo fa ok E comunque ricordatevi sempre che quando Rispondete a un attacco di un nemico che vi ha ferito recuperate un po' di vita Tanto per te Tanto per te Un po' non tutta un po' Qui ce ne sono altri due Ma porca puttana mare carico Cioè doppio eh Mi sei piaciuto una cifra in questo attacco Si poi quando cominci a registrare Naturalmente è la volta che Che performo Comunque C'è questo C'è un nemico qui? Si Ok Esattamente questo è il motivo per cui Prima i filmati erano registrati Cioè la vita in questo gioco è così Quindi può diventare No perché poi a volte va veramente a culo eh Si si no no è chiaro che ad esempio Quindi Quindi la vita a volte può diventare veramente complicata E dato che Cioè non possiamo fare un po' Tondo 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 Cioè questo è il punto Bestemmi di ogni giro Cioè è questa la verità Cioè nel senso ecco lì c'è lo stronzo Questi sono potentissimi se vanno in combo Ce ne siamo accorti Guai a te Guai a te Guai a te Invece se li schiacci come gli scarafaggi Non sono così ridicolosi Si il problema è che Sono chiaro che dirige Quando ti trovi quattro contemporaneamente Che ti stuprano analmente Insomma non è Non è molto bello Allora stiamo esplorando Il corpo umano Lo ricordo diverso così però Tondo 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 Quindi se devi fare tipo ad esempio qua È fondamentale il terzo colpo Perché il terzo colpo impedisce a lui di contraattaccare Dove essere morto Oh Tipo quella è energia che ha recuperato Che non è solito un cazzo No quando si vede quella Quell'effetto lì perché recuperi un filo di energia Allora Siamo qua È anche la torcia E in verità Si si Ce l'ho tutto A me mi sono In verità Apri il cancello Ma si può aprire solo dall'altra parte Quindi dobbiamo trovare una via Per arrivare lì Qui c'è Qui c'è Una ex mamma E bisogna Quindi insomma ragazzi È questa Cioè il live commentary Lo potete fare solo su queste parti qui Solo Ammesso che sono probabilmente Stavo per dire fino a un certo punto Va a vedere se lì Ok l'avevo già preso Là in fondo Se uccidete quei tre Trovate qualcosa Qui sono tutti Come vedete tutte le persone che sono occupate Tra cui me Come degli stronzi E capita E adesso bisogna trovare La via Il lungoarnese Loro hanno il lungoarnese Ce n'è un altro adesso Che poi adesso qui abbiamo già il primo video Perché se andate a destra Trovate un mostro che ha le dimensioni di Guarda poi ti dice Ma devi faccio il culo Oh ma se pigio l'olso Mi deve andare giù Cioè poi perché tra Ma se lui vince lui Cioè come vedi Oh ma che palle cazzo E quando vi va male così Non c'è Poi il tilt è dietro l'angolo Madonna quanto è rischiato fra Sì guarda Quando quando vedo così Sono abbastanza fearless E faccio male Ok allora Andiamo Allora qui ho visto L'altro stronzo andare di qua Sì Quindi prima di Di vedere Ecco Dai fra usa il martello Olè Ce l'hai fatto Bravo Oh Crepa E non mi da niente Perché? Perché ho meno di 20 pozioni Questo gioco è stronzo È fondamentalmente uno stronzo Sono circondato da stronzi Giulio Sempre Sempre Allora In verità C'è uno da gente morta da queste parti Adesso con tutto il bene Ma In verità Se andate avanti Cos'è da questo suono? Allora Like a boss Questo Ah Capisco Senti Io Una direi che possiamo provarla Ah Un cazzo Un cazzo Abbiamo fatto un cazzo Un mino che un cazzo Non mi viene fregato neanche Niente Buono Buono Bello Giusto un po' eh Una bella risposta Un po' di energia Via, 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 via Via, 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 via Mi chiama, contrattacca subito Quando lo colpisci Si, si Se, si Una roba incredibile No ma sta scendendo davvero le scale Si Attacca Presto Se io punterei su una combo più veloce Quando lui si blocca Che figata sta scendendo veramente le scale intanto perchè sangue? cioè ti faccio notare che penso che si orienta anche cioè non pensate di schivarlo mentre carica perchè poi cambia la direzione quando cade l'hash dai 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 minchia questa swing ma non muore più minchia pensa se non ha ammazzato gli altri due stronzi no era venivi chiuso a panino e posseduto analmente per circa due ore e mezza lui è un po' grandino eh per i miei gusti dai attacca perchè non attacchi dai stronzo giusto adesso che manca poco dai è bellissima questa cosa lo sapevo che faceva il secondo swing ci sei abbastanza stronzo non è morto spara io per pregiare con la pistola oh mi sono dimenticato di mettere la pistola grazie grazie cioè io spero mi dia otto pozioni ah però posso potenziarmi però cioè ma che cazzo e che cazzo no lui mi da la pozione tu si perchè illumina hai ragione anche tu allora questo che fa ma ma poi non posso più scendere da quella parte boh però non c'è niente se siamo online si siamo online lì c'è un messaggio parla con rifugio in italiano io dirò a chi l'ha scritto apri cancello dall'altra parte ok quindi non è che se lo attivo di qua lui mi apre il cancello di lì quindi fammi capire vediamo parla con rifugio potrebbe voler dire ehm di parlare con la gente nella linea bravo Giulio mi piace quando sei perspicace in questa maniera però mi mi resta di capire no ok non era la soluzione tu vedi rifugi no per quello dico l'unica cosa che posso associare al concetto di rifugio è quello quindi vabbè allora riattiviamo andiamo un attimo giù a vedere che cazzo c'è naturalmente adesso che sono pieno di pozioni occhio vedi altre bestie? no perché il problema sono le altre bestie si sono due ora lo vedo e questa è vista anche te questo è anche più cazzuto o sbaglio? ah c'è una mano più più corposa adesso ma cos'ha il posto del male? fatti bu mmmm sto cazzo ecco sono proprio un vile ah fai bene oh fai brutto sto cazzo sto cazzo ragazzi sto gioco è così sono venuto in queste situazioni dai girati alto ma perché oh due contro uno non è molto un fair play guarda stanno lì guarda stanno lì e ti guarda e loro muti ma dai cazzo allora senti saliamo un po' così loro ritornano lì e io quindi posso e ragazzi è così la tu stai qui con il martello non so che ancora e andà e mo batte eeeeeee aliee e adesso ci erano tutti e due nel dubbio e tira una martellata gigante a piano 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 a quello ora sta dicendo o freddo bello questo corvo pure anche il corvo non lo so ma mia madre mi è salinò eh eh non so chi è io eh c'è c'è tutto eh quello è quasi l'altro è quasi morto e l'altro è come nuovo si e c'è un altro corvo ancora e c'è un altro corvo è un posto un posto ridente direi dai e dai si va a aprire la pistola e spara all'altro che così si viene da te aspetta se beh chiaramente cioè puoi anche attaccare questo cioè niente te li impedisci come sei timirato franco cosa ti è successo qua ti sei giocato un rischio eh lo so però del torno è che cazzo devo fare dai 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 oh quello è crepato questo corso della pistola spot mi piace molto posso dirlo? eh in verità te dovrei usarla per bloccare sti stronzi cioè mi ha dato solo una delle dieci pizze e questo è il risultato ditemi voi se è normale se c'è anche x per piacere eh 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 ma che cazzo no 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 che cazzo avevo 2.894 aaaaaaah vedete è un gioco di merda in senso buono tu mi capisci in questo sì sì ti capisco benissimo anche perché adesso devi rifare quindi devo trovare l'eco del sangue dai proviamo questa combo intanto adesso non la perde adesso vi faccio vedere come potete riacquistare gli echi del sangue dopo questi 40 prezzesissimi secondi di caricamento e perché non dovete correre adesso scoprirete un sacco di cose in un video solo tutte grazie a bsquare gaming che non vende sonni ma soli di fallimenti bravo volevo volevamo attivare l'e-commerce dove giulio vende perle di saggezza in scatole praticamente volevamo mettere il cazzo da qui deve scendere sto mmmm nimini nimini dai con il tuo permesso allora guarda cosa mi tocca fa adesso devi evitare le cose ho cazzo ho detto Temo di sì C'ha gli occhi rossi Di solito è un buon segno Chi ha gli occhi rossi? Lui Quando c'hanno gli occhi spiritati vuol dire qualcosa Sei tornato qua Vuol dire che ha lui il mio eco del sangue Sai che questo È lui che ha spiritati No, no, è quello grosso Vedi A posto La vita è una merda Cioè, lui Io lui l'avevo ucciso O stronzo Quindi devo uccidere lui Per avere 2940 god Sì San Per Dio Sanpei Bello Dai, dai Che non ho tempo Crepa, crepa Eh no Pistolettata Quando uso questa Sì, no, lo so che non puoi Oh, santo Dio Due Aaaaa Però stai dittando Stai attento Per piacere Torna presente Ma cazzo Ma guarda quanto sto sciupando Ammazza Ammazza di uno Eh, bravo L'altro Via Fiale 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 Niente a fare Monello Di fiale sei pieno Bravo Bravo Questo deve essere Bravo Ora Ma ste cazzo Di fiale Eh no Perché sono pieno Perché me l'ha presa Da lì Ho bisogno di fiale Questa è la mia scorta Personale Lo so Lo so Pure corre Mamma mia Che dramma C'era È tutto così Lo capite C'è questo Miechi del sangue Ma sarà Stronzo Il gioco Non è che me lo mette In quel Che vedete che ha gli occhi Viola Dai Vaffanbaglio Guarda me l'ha mai rotto Cioè È un vile È un vile Curati subito Grazie 386 A quel punto Le lasciavo lì Cosa 386 Eh Gli occhi del sangue Sì 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 Se lo metti Conviene usare L'altra arma Da vicino Perché è troppo lenta Questa Almeno con l'altra Gli dai 3-4 colpi Dai cazzo Vattene via Pure Eh lo so Mamma mia Ma guarda che è difficile Lo so Lo so Io non lo so Dicendo niente Dai Vai giù Non fare lo swing Però Possibilmente Niente Niente Non gli fa un cazzo Secondo swing No Posso essere vicino È più stronzo ancora Scusa ma voglio Voglio un pratico pozzo Tra me Dai 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 Sì però Dai No eh Che nemico Angosciante Veramente Cioè Ma poi è enorme Quindi ti mette anche l'ansia Sì sì Tutto Mancava la campagna Se no Cioè hai visto Ho fatto lo swing Dopo Che stronzo Ora Vai dietro Stronzo Vai dietro Cioè in realtà Ha mancato Che bello No una volta Succede anche a lui Ecco Cioè ma come cazzo Corri Stronza Morto Puttana Puttana Troia Troia Puttana Molto Io ti odio Bene Questo video vi dire